Obiettivo Terra, il più popolare concorso fotografico per fotografi direttanti e professionisti che scattano foto naturalistiche nei parchi nazionali e regionali, nelle aree protette, nelle aree marine protette e c'è tempo fino al 21 marzo per inviare le vostre foto a Obiettivo Terra, concorso promosso dalla Fondazione Univerde insieme a Società Geografica Italiana, tantissimi partner e che quest'anno ha varie menzioni speciali, tra cui una nuova, Obiettivo Roma, dedicata ai parchi dell'area metropolitana di Roma. Solo Roma città, Roma comune ha molte aree protette, riserve naturali e bellissime zone naturalistiche. Poi se aggiungiamo tutta l'area metropolitana ci sono altri parchi, altre aree bellissime e questa volta insieme alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, abbiamo deciso di rilanciare questa menzione speciale che insieme alle altre, quella dedicata al mare con Mare Vivo, quella dedicata all'agricoltura con gli amici di Campagna Amica, arricchiscono questo concorso insieme al premio di 1000 euro che è dato alla foto vincitrice. Peraltro queste foto, un tempo erano esposte con una maxia fissione il giorno 22 aprile in occasione dell'Earth Day, quest'anno saranno proiettate e in ogni caso serviranno a festeggiare questo grande momento che è la festa della Terra, l'Earth Day del 22 aprile. Quest'anno abbiamo deciso di introdurre una menzione speciale, Obiettivo Roma, per i più dei parchi della capitale e dell'area metropolitana e ringraziamo la sindaca di Roma che ha sempre sostenuto perché Roma patrocina questo concorso fin dalla prima edizione e quindi veramente è importante far vedere anche le bellezze di Roma. Non solo è importante, è importante partecipare anche perché poi la foto vincitrice sarà proiettata su uno dei palazzi di Roma, quindi vi aspettiamo numerosi per vedere le vostre foto e capire qual è l'obiettivo più bello di Roma. Bellissimo e dentro il 21 marzo bisogna partecipare per poter concorrere. La prima foto a livello nazionale avrà anche un premio di 1000 euro, quindi non fa mai male. Direi no. La prima foto a livello nazionale avrà anche un premio di 1000 euro, quindi non fa mai male. Grazie. Grazie.